Allora, ciao a tutti, non sono più abituata a fare questo genere di video, in realtà non sono proprio più abituata a parlare né davanti a una videocamera né a parlare in generale. In questi pochi minuti di video che decido di condividervi, magari vi spiego brevemente cosa mi è successo, semplicemente sentivo la necessità di farvi sapere che sono viva abbastanza, ho affrontato le mie difficoltà e le sto ancora affrontando, per questo motivo il canale è stato inattivo per parecchio tempo e probabilmente lo rimarrà per altrettanto tempo. Non so se me la sentirò mai più di condividere dei video oltre questo, come come sempre potrebbe ricapitare la prossima settimana. Io vi leggo, leggo tutti i messaggi che mi scrivete, i commenti, anche se spesso non ho risposto, alcuni sono ancora in sospeso, insomma non vi ho più fatto sapere nulla, però ho sempre un occhio di riguardo, mi arrivano sempre le vostre notifiche. Vi abbraccio e vi ringrazio per tutte le cose che mi scrivete a distanza di anni. Il punto è che dopo uno dei miei ultimi video in cui parlavo di depressione, potete immaginare che la depressione è peggiorata e di tanto. Di tanto e penso che molti di voi possano capirmi. Mi sono sentita una fallita per tanto tempo e spesso ancora mi ci sento. Il mio mood cambia all'ordine del minuto, del secondo, perché ripeto sto affrontando un brutto periodo che va avanti da un bel po' di tempo e mi sono ritrovata quasi sola diciamo in questo periodo. Non nel senso che non ho nessuno perché ho delle persone vicino, però che non capiranno mai a fondo come io mi sento e in questo periodo ho capito che altre persone, un bel po' di persone che pensavo mi appoggiassero e a cui pensavo interessasse, insomma, il mio umore se ne sono altamente fregate. Sono uscite definitivamente dalla mia vita. Alcune di queste persone le conoscevate perché le ho portate anche sul mio canale. Insomma, mi sono resa conto che delle amicizie non erano tali, ma probabilmente si basavano soltanto sul fatto che io fossi una youtuber e che i miei iscritti, il numero dei miei iscritti crescesse. Perché alla fine ho capito che per delle persone che pensavo fossero amiche il numero dei miei iscritti valeva più di quanto, insomma, valessi io. Allo stesso tempo mi sono sentita sia una fallita anche per il canale youtube che se prima potevo considerare un lavoro, perché a tutti gli effetti lo era anche se non era molto redditizio, riuscivo a far conciliare quello che io sentivo, i miei pensieri, quello che mi piaceva fare con il mio lavoro, col tempo, con il mio morale che è sceso sempre più giù. Non me la sentivo più di fare video e ovviamente calavano gli iscritti, calava comunque anche il ricavo dei miei video, calava l'interesse della gente e i commenti diventavano sempre più negativi. E quindi ho iniziato a farmi influenzare anche e soprattutto da questi commenti negativi. E siccome io che ho sempre condiviso una parola di conforto nei confronti delle persone che si trovavano in difficoltà, e ho cercato di aiutare il prossimo, di aiutare voi soprattutto con questo canale youtube, condividere video in cui io fingevo di essere che in realtà non ero, fingevo di essere felice, mi sembrava abbastanza incoerente, perché in realtà la mia testa mi portava da tutt'altra parte. Mi piacerebbe magari farvi sapere, aggiornarvi sulla situazione e aiutarvi anche da un punto di vista della salute mentale, perché ne so qualcosa, perché mi sento come probabilmente si sentono alcuni di voi. Però vedo troppe cose nel mondo dei social che non mi piacciono. Vedo che va avanti sempre la superficialità e a me non va di condividere alcun pensiero, quando vedo che appunto pensieri più spensierati, ma neanche perché la spensieratezza va bene, ma proprio pensieri stupidi vanno avanti e vengono riconosciuti da delle persone. E quindi non me la so sentita. Inoltre non me la sentivo neanche di parlare, oggi me la so sentita un po' di più. Perché questi miei problemi di ansia e depressione mi hanno portato anche ad avere problemi nel linguaggio. Cioè che proprio non riuscivo a parlare. Come vi dicevo all'inizio del video, non sono più abituata a parlare. Perché ho preferito chiudermi me stessa. Non ho scritto per un bel po' di tempo. Non ho parlato con nessuno per un bel po' di tempo. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, in questi due anni ho frequentato una scuola di cinema e videomaking. Adesso sto scrivendo per un giornale di cinema. E faccio interviste a persone che fanno parte del mondo dello spettacolo. Se vi va cercatemi su Instagram, in cui mi chiamo sempre una polpetta per amica. Lì, aggiorno un po' le cose. Anche se, anche Instagram, insomma, su Instagram si è visto il mio silenzio per altrettanto tempo rispetto a YouTube. Sono in un momento di stallo in cui io non rinuncio alle mie passioni, però anche le mie passioni mi mettono ansia. Mi dico solo che qualche giorno fa stavo in un centro commerciale, ho visto tanta gente, il vedere tanta gente mi ha fatto scoppiare piange. Quindi, questa è la situazione attuale. Volevo farvelo sapere. Spero che vi arrivi un messaggio, insomma, guardando questo video. Vi abbraccio virtualmente. E spero stiate bene. Non mi sono presa al Covid in questi due anni. Porto ancora la mascherina quando vado in giro. E questa è la situazione. Ve si ama. Spero di ricevere qualche commento, così magari parliamo sotto questo video. E non so quando ci risentiremo, però se volete che io vi parli di qualcosa in particolare, scrivetemelo nei commenti e prima o poi ne parlerò. Ciao, polpette!